Comunicare l'archeologia Questo lo faccio io da 35 anni con la rivista Archeologia Viva E da diversi anni lo sta facendo anche la rassegna internazionale del cinema archeologico di Licodia e Ubea Credo che gli organizzatori di questa manifestazione che ha avuto quest'anno un successo particolare Si possano ritenere soddisfatti e soprattutto gratificati dalla finalità veramente alta della loro attività Grazie